Operaio 52enne, residente a Biadene di Montebelluna è morto durante i soccorsi mentre i sanitari tentavano di rianimare in ambulanza poco prima delle 9 di questa mattina. Troppo gravi le ferite riportate da Mustafa Farissi nel fatale infortunio sul lavoro alla Agri-Fung di Trevignano quando è stato inesorabilmente travolto da una ruspa. Come racconta il fratello, immediatamente a corso in fabbrica, prese la drammatica notizia. Lui ha detto che lavorava su un nastro solo con i bottoni e dopo alla fine mi hanno detto che era vicino dove c'è quel grumolo di litami e l'hanno visto sotto la ruspa, la ruota è andata sopra di qua, dal piede. Meno di due anni fa, nell'aprile del 2014, l'azienda era stata a teatro di un precedente incidente sul lavoro costato la vita ad un 54enne, Alessandro Marchesin, assunto da appena tre mesi. Ditta specializzata nella produzione di funghi, tartufi e compostaggio dove, a detta del fratello dell'operaio marocchino, anni fa la vittima aveva subito un altro infortunio. Sempre per un incidente, la ruspa è sempre, le hanno rotto il braccio sinistro, il pulso. Questa mattina sul posto con i tecnici dello Spisa e i carabinieri, con l'indagine ora affidata alla magistratura. Il marocchino è residente da 30 anni nella marca, lascia due figli di cui una bimba di appena due anni.